la figlia pelata ha scritto anche a me che è stato bannato sì, figlia pelata è stato bannato ma è tornato ah, lui sì o no? eh no, ma con un altro account eh, la scuola, ci puoi fare un altro account? no, non lo fare, non lo fare no, infatti chiedo, chiedo no, perché se lo fai e ti sgamano poi è un casino e non ti risbannano più ok, ok chiama illusione al ban, fra la cosa più pericolosa che puoi fare da bannato è tornare tu intanto hai il canale YouTube? eh, no ok beh, potresti iniziare a creare o fai live su TikTok per il momento, così mantieni un po' il sì, devo arrivare a mille per fare i live su TikTok vai, spamma nelle storie, spammiamo tutti nelle storie ragazzi, venite a seguirmi su TikTok, le colli original metti proprio il link, però puoi metterlo sì, poi metti il link lo metti in bio direttamente, nella tua bio arrivi a mille e via porca troia se no chiedi a qualcuno, prova a chiedere a qualcuno se hai un canale YouTube con mille iscritti c'è anche Worksy che ce l'ha per esempio e inizi a streamare un attimo su YouTube, giusto per fare un po' di live finché non ti sbaglio su Twitch, così rimani nel mood anche se non mando i ticket mi sbagliano è tempo indefinito però calcola che secondo me tempo indefinito può dire un giorno come una vita però per quello che hai fatto tu, cioè non hai fatto alla fine niente negli ultimi giorni eh ma perché l'hanno mannato? perché per incitamento all'odio che probabilmente è la chat che ha fatto quello minchia però bisogna vedere bisogna vedere un attimo tu comunque manda il ticket mandalo comunque scrivi una mail di che comunque non volevi incitare all'odio ma che hai capito che la chat andava più moderata bla bla wow dica se è una attenzione che comunque non si sa mai che c'è qualche moderatore di Twitch che ci guarda salutiamolo ciao